Ciao amiche e benvenuti in questo nuovissimo video, oggi siamo qua su un nuovo tutorial visto in un tantino cosa dobbiamo fare, allora in pratica in questo tutorial diciamo costruiremo insomma cambieremo una semplicissima scatola in una scatola magica, non vi dico niente perché vi lascio ovviamente al video ok ragazzi questo è l'occorrente, allora ovviamente ci serve una scatolina, potete vedere molto sexy poi un colore, un pennarello, insomma io ho questo pennarello indelebile nero, uno stuzzicadenti, dei colori tutto sexy ovviamente una forbice, uno scoccio che però io vi consiglio in pratica quello grande insomma però mi serve quello trasparente e in caso ho solo questo quindi utilizzerò questo e dei fogli allora la prima cosa che dobbiamo fare è in pratica diciamo prendere un po' le misure di questo allora intanto togliamo i fogli che non ci servono in modo che siamo tranzoli intanto questo non ci serve in modo che siamo a posto quindi prendiamo diciamo le misure del... insomma non deve essere proprio perfetto eh insomma cioè non dobbiamo esagerare diciamo comunque la cosa che potete fare tranquillamente in casa è secondo me veramente molto molto carina ora vediamo un po' così vediamo un po' questo è deciso come se è un po' di più insomma alla fine non vengo anzi non c'è veramente problema perché vorrei fare prima questo vorrei fare prima questo invece di prima colorare perché adesso vi faccio vedere cosa dobbiamo fare e fino a qua circa quindi il marello se ne vanno a spasso togliamo questo e in pratica ad esempio prendiamo prima di tutto questa base per dirvi l'abbiamo presa perfetto la scatolina la possiamo mettere davanti non è precisa però qua insomma vedremo allora in pratica dovete colorare circa un po' a caso dovete colorare un po' a casaccio diciamo ad esempio tipo a casaccio nel senso con i colori un po' a caso ma dovete comunque dovete comunque colorare per bene insomma non dovete lasciare spazi bianchi perché se no il trucco diciamo non funziona è anche molto carino da vedere da far vedere ai vostri amici ma secondo me perché insomma ho coltito i bruxellini come hai fatto? è un trucco di marzia sapete quindi è anche molto bello e lo potrete fare insomma più volte adesso non so quante volte perché sinceramente è la prima volta che lo faccio e volevo provarlo con voi e l'ho visto da una youtuber che si chiama in pratica l'olanda switz l'ho visto da lei fa molti tutorial quindi l'ho visto ma questo coloro non funziona e vabbè non importa comunque perché dovete fare proprio giusto così a caso proprio l'importante è che ci sono tantissimi colori e che non lasciate spazi bianchi e che ci sono Grazie a tutti. 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 Ok, quindi prendiamo lo scotch e in pratica andiamo a ricoprire tutta la superficie. Grazie a tutti. Quindi un attimo così, poi in modo che possiamo riproprire per bene. Grazie a tutti. In questo modo entra in campo il pennarello nero. Cosa dobbiamo fare con il pennarello nero? Dobbiamo in pratica colorare tutta la superficie, insomma, dobbiamo colorare sopra lo scotch, così. Dopo che, insomma, credo che, insomma, credo anche asciugare, potete colorare di nero, insomma, con il pennello, infatti, se vedo che funziona così, però, magari, quando si asciuga e ci ripasso, poi, poi il colore�� da, egli facciamo il colore, poi, lo presenterò in fare con il colore, po', poi il colore si ritoglie in questo modo, allora passerò con il colore, poi, però, in théoriaabbio bisogna farlo, senso, come si fa? Toglie! vorrei un attimo provare la direttura come una cosa un po' più grande ora ovviamente non si è messo molto bene perché è giusto da avere passata così si toglie si toglie togliendosi una persona insomma ci può scrivere sopra e poi ci possiamo ripassare secondo me è una cosa molto molto carina insomma non è che è proprio utilissimo insomma però se lo volete far vedere ai vostri amici la potete far vedere insomma anzi forse potete farla anche meglio di come l'ho fatta io così ne sono sicura che potete farla meglio di me la prima volta è già tanto che ci sono riuscita deve essere sincera poi qui ci ripasserò di più insomma ci ripasserò un'altra volta se proprio insomma poi vedrò comunque abbiamo visto che funziona e sono molto felice visto che è la prima volta adesso adesso infatti vedete queste strisce si vedono non so per il video se si vedono infatti queste strisce sono proprio dello scotch che insomma è fino diciamo quindi non è finito quindi non è finito benissimo beh comunque si toglie non so nel video se si vede bene comunque adesso finisco comunque si fa appunto solo col pennarello se no ovviamente se fate magari con altri cioè con i colori acritici tipo cose varie è proprio che una volta che si secca non potete fare più niente insomma non potete fare più niente ovviamente perché se si secca si secca tipo vedete questa è la prima passata e non si mette benissimo però poi quando si asciuga un pochino già si colora di più comunque ripeto secondo me è una cosa molto molto carina cioè è simpatica secondo me con le cosiglie ok ragazzi allora questo era diciamo uno stupitino e cosi mai molto molto carina ok ragazzi allora questo era diciamo uno stupitino e cosi mai trucco di magia che bella che non era trucco di magia perché insomma era un trucco di magia senza magia in praia perché non era un trucco di magia anche per sé però io direi che possiamo fermarci con questo episodio lasciate mi piace commentate e iscrivetevi al canale quando l'avete fatto ciao a tutti